Una battaglia con oltre 50 figuranti, sbandieratori, antichi mestieri, spettacoli, accampamenti per ricreare nel borgo un villaggio del Trecento. Domenica 8 ottobre arriva a Calenzano Alto la seconda edizione di Calenzano 1325, assedio al castello, con la rievocazione storica dell'attacco delle truppe di Castruccio Castracani. Dalle 11 le porte del borgo medievale saranno aperte e accoglieranno le persone, prima chiaramente con un corteo di figuranti, ma poi accoglieranno le persone con mestieri del tempo, con figuranti, con cibo del terno, con le taverne aperte e accoglieranno proprio in questa atmosfera medievale che il nostro borgo incarna in pieno. Quest'anno gli obiettivi sono innanzitutto il rigore filologico dei costumi e questo ci premia sempre, il rigore anche nei mestieri, negli spettacoli e nella rievocazione storica che puntiamo molto a quella.